Onestà, lealtà, voglia di futuro e di cambiamento, dieci anni fa hanno cominciato a mettersi in gioco, eravamo pochi, siamo diventati una moltitudine, siamo diventati il secondo soggetto politico italiano partendo dal niente, partendo dalle idee, dalla volontà di riscatto, dalla volontà di ripristinare un'amministrazione e uno Stato. Noi non siamo il quarto Stato, noi siamo i cittadini che si stanno facendo Stato nella latitanza di coloro che hanno mal governato questa nazione negli ultimi 30-40 anni. Si tratta per chi ancora non è convinto di elaborare un lutto, ci hanno raccontato balle su balle sulla possibilità di continuare a governare in questa maniera. Sono balle. Chi non è ancora convinto del 5 Stelle deve fare un processo nel convincersi che dei cittadini normali possono entrare nelle istituzioni e con la passione e l'onestà governare dieci volte meglio di coloro che ci hanno preceduti. Lo stiamo dimostrando entrando nei municipi, nei comuni, nel Parlamento e nell'Europarlamento. Dallo Stato! Fuori la mafia! Dallo Stato! Fuori la mafia! Dallo Stato!